Ciao ragazzi, bentornati di nuovo nel mio canale oggi continuiamo il videocorso di Excel parliamo della funzione minima e massima abbastanza semplice come argomento scriviamo dei valori in queste celle ok, perfetto ora riportiamo qui in questa cella il valore minimo tra tutti quei valori e andiamo a digitare min vedete come funzione ci viene restituita diamo il doppio clic e qui Excel ci dice che dobbiamo passare qualcosa come parametro cosa passiamo? sempre tenendo aperta la tonda per trascinamento andiamo nelle celle che vogliamo prendere in considerazione quindi che saranno parametro passato come minimo ok, chiudiamo con la tonda e diamo invio effettivamente tra queste celle il minimo è il 12 stessa cosa, identica cosa possiamo fare con il max vedete massimo per trascinamento andiamo a selezionare le celle da A1 a A5 e diamo invio ovviamente si capisce bene che come parametro possiamo passare una cella, punta e virgola, una seconda cella per esempio quindi A2 chiudiamo vedete sempre 12 però se io vado in questo caso a scrivere max lui prenderà sempre in considerazione queste due celle A1 e A2 se volete prendere il range come già abbiamo visto in precedenza con altre funzioni dovete mettere il punto e virgola comunque per trascinamento sicuramente è più facile passare il range di colonna il range della colonna potete passare anche un attimo che cancello la formula non solo un range verticale o orizzontale potete passare una sorta di tabella diciamo ipotizziamo di scrivere ma no testuale no 1200 numeri a casaccio proprio 3 e 1 per esempio se io volessi trovare il minimo o il massimo tra tutti questi numeri niente di più semplice faccio uguale min doppio clic vado a digitare per trascinamento tutte quelle celle rilascio e do tonda chiusa tra tutte queste effettivamente è l'1 quindi non è necessario specificare solamente la colonna solamente il range della riga quindi potete prendere diciamo una porzione del foglio di lavoro stessa cosa ovviamente per il massimo in effetti se andiamo a fare max andiamo per trascinamento chiudiamo tonda e ci trova il valore massimo tra tutto questo diciamo porzione di foglio di lavoro che è 123.000 quello che è bene io spero che questo video vi sia piaciuto come sempre vi invito a mettere un bel like iscrivetevi al canale attivate la campanella così rimanete aggiornati sugli ultimi video che pubblico e noi ci vediamo alla prossima ciao